Ci sono uomini anonimi e altri eccezionali, uomini semplici eppure rivoluzionari, uomini liberi, bruciati vivi sul rogo, come eretici, cancellati dal fuoco, uomini svegli ed altri addormentati, uomini spenti o troppo illuminati, uomini che non lasciano indifferenti, uomini avanti anni luce per i loro tempi. Franciscus, Franciscus, Franciscus. Ci sono uomini anomali oppure straordinari, uomini fulmini abbaglianti come fari, leggeri come il vento, ardenti come fuoco, sognatori intermediari con l'ignoto, uomini profeti, scienziati, sciamani, uomini sarti che cuciono ai lembi più lontani, uomini lucidi, capaci di sfidare il tempo, uomini così pazzi da cambiare il mondo. Franciscus, 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 Franciscus. Franciscus, Franciscus, Franciscus. Franciscus, Franciscus, Franciscus. Franciscus, Franciscus. Franciscus, Franciscus. Grazie.